Musica 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 Beh, te ho... te ho girato l'angolo sono trovati tre che si stavano curando minchia i drogati figai trovi i drogati nell'angolino venga io gli ho tirato un colpo di peacekeeper è un colpo di peacekeeper avrai te 99 a bloodhounder che sembra si chiama stava a bangalore noccato e l'altro il posto via ci sono stati quattro attacchi di bangalore un gigante dio mi siete pro ragazzi coddio i tuoi amici si rivelerà utile preparatevi ad una morte certa cazzo è la gauntlet ma cosa è successo cosa hanno tolto gauntlet si serio anche io mi sto chiedendo ma mica c'erano delle strutture verdi sui campi qui c'è uno scudo corporeo livello 2 grazie di nulla se c'è colpi di punto figa ti ho detto ti ho detto pure stedio bomb in verità anche io ho detto che cazzo è sparita ma no è possibile si guarda ma qui c'è ancora ah nel notturno ah ok si casa di carta casa di scultato si si allora io vorrei dirvi giriamo in arena però poi ho guardato la safe cosa c'è gente c'è gente c'è gente c'è gente c'è gente facciamo un accapatoio allora ah ah come sei simpatico ok allora me ne vuoi fanno la bocca grazie prendo noto della tua riconoscenza com'è 36 rosso ho già lo scudo rosso grazie prendo atto della tua gratitudine eh si scudo oh l'avevo giocato questo qua è bianco questo qua è bianco è bianchissimo bravo l'altro è bianco l'altro è bianco più veloce cazzo non le siamo in safe oh no lo tiriamo qua ok vai te grazie mi serve un caricato mi serve una mod canna ma c'è strava questo muo più io mi serve una mod canna e poi grazie ho un fottuto emlock e un fottuto radius oh mamma mia oh mio dio ho appena preso lo scudo oro qui c'è un scudo corporeo livello 2 cazzo duro c'è un cazzo c'è dove l'ho trovato? c'è dove l'ho trovato? l'ho trovato in mezzo dove c'è pantano e laboratori quello che va a sinistra che è praticamente è una zona abbastanza si ma va a cazzo c'è boh come cazzo hai fatto a trovare lo scudo d'oro? d'oro? giuro ah cioè si ma questa è classificata raga questa è classificata cioè dai io sto facendo come Fabio siamo dentro al prossimo anello che sei you know what I mean con i più piccoli ma qua la Swisswing si chiama Swisswing e la winman si si faccio come Fabio con i più piccoli cioè ti lanci giù dal balcone? eh allora qui c'è un calcio standard quello lì se starò ancora a casa a luglio madonna dio che pippa così bello di questa baita fa figa certo sarebbe bello avere anche la figa a scopare però oh ragazzi true back sono nel luogo che è successo e mi sfatto no no per adesso no tu lo immagini ma ve lo immaginate che figata un nemlock automatico cioè è troppo sgravo figa c'è di merda io non vengo io non vengo a lavoro da te e ti dico come fare il palo grazie ma lo ascolti ancora fin e sbanchi si offende buon che mi muta ah no è già mutato segnata legata al dito ferma che non si segnali ho una gendina una gendina posta per te ho una gendina posta per te mi segui tu te si si bravo giocati poi no poi no di buono madonna che colpo in testa ha battuto anche l'ultimo brutto dio manco si è accorto che li ho preso in testa vabbè stiamo gucci adesso qui c'è un caricatore pesante esteso ecco se si chiude la trasmettitore lì sono bestemmi però bestemmi leggero pesanti allora 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 alla gabbia c'è gente alla gatta c'è gente a mia amica c'è gente porco dio scopo la gatta come se ti passa sono sopra ci sono sopra ci sono sopra ci sono sopra minchia kit medico è mio mi servono munizioni pesanti com'è terra c'è un fenomeno nessuno è anche questo mi servono munizioni pesanti ma ti pare oh la c'è un kit di felice è mio tutto mio tutto mio tutto mio in tre colori diversi qui ci sono munizioni pesanti qui c'è un caricatore pesante esteso davvero livello 3 si si cammiar boys cammiar piano grazie sono anche si in gabbia cammiar piano cazzo è la mod canna cos'è cos'è la mod canna raga è la stabilizzatore stabilizzatore ma è mod da quando è mod dovremmo condurre una ricerca proprio qui hanno lanciato un bombardamento ho detto qui c'è una siringa e sentiste ce l'ho già ah proprio sopra dica si vola oh qua sotto si la terra qui c'è un kit fenice qui c'è un opac selettore di fuoco qui c'è un caricatore pesante esteso livello 2 qui ci sono munizioni ascoltate ci sono munizioni per cecchino qui eh la scudo viola quello là che pavo fa da me qui ci sono munizioni energetiche attenzione il leggero leggero e pesanti leggero e cecchino qui c'è un ottica distanza ravvicinata muoviamoci abbiamo un minuto il bello è laggiù qui ci sono munizioni si ha fatto 72 qui ci sono qui c'è un R301 c'è anche altra gente no ma è grì scusa sto cercando bottino qui ci sono anch'io osservando questa zona credo che non siamo i primi ad aver attraversato quest'area si stanno fidando con altre gente io ho il portale bene siamo dentro dovremmo condurre una ricerca proprio qui ok qua c'era una bungalow attenzione capsula assistenza in arrivo figa uno scudo viola però era buono possiamo dare un'occhiata qui scudo viola con la minchia sottopalla con la sottopalla ancora ne ha anche qua oh cazzo soggetto individuato sono lì sul crinale no soggetto individuato una terra c'è una qua una terra questo va già a radio scolotto per oddio ok quello è all'autoressa stext ti sparano da eh sei stext teo ti sparano da lì stext ah 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 eliminato oh yeah c'è qualcuno lì lontano eh o ce l'hai lì eh ce l'hai lì una vicella da trasporto in arrivo amigos eh io ne ho messo terra uno vado ricarico si era un 29 ricarico ci sono ti copro sopra abbiamo compagnia rilascio una variabile indipendente sono un altro ricarico ricarico ho il guarda nel giro mi serve l'os buono mamma che male che mi sono fatto mi sono cagato ma sai la cacca che mi scende nooo questo c'ho la super di merda hai la modo per il prauler grazie mi hanno detto che hanno piazzato delle trappole hai la modo per il prauler è una domanda uno, due, fino in due io non ho ganato l'ho detto sono qua sono lì uno lì uno là è là, è là è là, è là come ho scudo il giro come ho scudo il giro grande scudo fuori grande scudo fuori ok una terra ah il devotion l'ultimo il devotion scudo blu è morto è morto è morto sì regalo per Pasqua ah è vero è Pasqua chi se ne frega mi auguri guarda teo 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 ti è biancariato figa eh raga ha detto te cioè cariato il diamante trenta secondi alla chiusura dell'anello mi piace arrivare per un soffio eh tanto per iniziare già diamo subito colpa a qualcuno perché è giusto l'abbiamo messo nel culo corri su l'ucchio le abbiamo messo nel culo corri su l'ucchio oh ma porco dio ma uccidetevi ma l'evento di Brighton l'ho già fatto Dio caone che coglioni oh ho 15 vittorie con Brighton tu stai sfidando la persona sbagliata porco dio nooo è morto coglione eliminati aaaaaaaaa oh oh mio dio se ti racconto la mia la mia stagione stagione 2 a livello 71 stagione 3 a livello 12 stagione 4 a livello 105 depressione eh come gira l'economia ragazzi in fase di discesa poi 5 kg ragazzi 5 kg porco dio ci sono dei nemici qui lì glielo figlio vai fagli vedere che c'è la più grosso l'anello è lì così vicino così vicino andiamo da questa parte l'anello non è troppo lontano restano 45 secondi potrebbe esserci qualcosa di buono da questa parte andiamo da questa parte noiii sei octane strafiero nooo vergodio l'anello da un secondo scuola dell'edizione qui c'è una zipline adoro questi agenti versaglio individuato 10 secondi alla mella c'era quello lì sopra la montagna che non me lo aspettavo neanche io non ce l'avevo allora la prossima skin che mi prendo sarà quella che mi prendo prendo bestia profana mi sto curando si abbiamo vinto oh mio dio abbiamo vinto ho vinto con il radio su una spitfire porco dio ed eravamo in due in due cinque chilo ho fatto tre mio compagno e tre quello che era morto prima 1303 di danno porco dio e ci ha dato la merda A spitti, a spitti avevo l'aspedico caricatore pesante calcio, calcio viola tut 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 dobbio sparare sembravo rambo tut 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 succo 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 ciao ecco 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 ecco